Presentato ieri presso la Biblioteca Comunale di Vallo della Lucania, il romanzo di esordio del 23enne originario di Canna Longa, Nello Amato, Il Giardino dei Oleandri. Il romanzo si sofferma su tematiche attuali come l'omofobia, la sessualità, la prostituzione e la violenza di genere, che nel libro sono trattate in modo esplicito, crudo, senza giri di parole o sottintendimenti. La protagonista, omosessuale, stuprata nel corpo e nell'anima, poi prostituta Sadomaso, alla fine troverà la sua redenzione. Il realismo degli eventi e lo stile ricercato fanno sì che il lettore si senta partecipe in prima persona delle vicende narrate e si senta travolto dalle numerose emozioni, spesso ambivalenti, dei personaggi. Lo scrittore, quindi, fonde le sue conoscenze teologiche, umanistiche, letterarie, filosofiche e artistiche per rendere più accattivante la narrazione. Il romanzo, infatti, è ricco di poesie, opere d'arte, descrizioni minuziose dell'odierna Milano e anche riferimenti alle sacre scritture. L'originalità dell'amato sta nell'aver ripreso per dividere in due parti il suo romanzo i termini immanenza e trascendenza, appartenenti al saggio esistenzialista Il secondo sesso di Simone de Beauvoir, scrittrice francese impegnata attivamente nel movimento femminista. Il romanzo trova un forte riscontro in un cortometraggio di 56 minuti, Il cuore dell'assassino, in cui il perdono, come anche nel romanzo dell'amato, vince su ogni sentimento malevolo presente nell'animo umano. La presentazione è stata patrocinata dalla Casa di Vetro, il centro antiviolenza presente sul territorio vallese che offre un importante aiuto alle donne vittime di violenza. Il mio è un romanzo psicologico erotico e si inditola appunto il giardino degli oleandri, il giardino di casa della mia protagonista, dal nome Maria. Io l'ho battezzata così, come il mare, ecco. Il mare che è sempre in tumulte, sempre agitato dalle passioni. La frase principe che può riassumere il significato e il carattere della mia protagonista è contenuta all'interno del mio romanzo, cioè il mare, anche quando è calmo, in realtà è soltanto apparente perché il mare non può essere mai calmo, è sempre agitato anche da un sottile filo di vento. Uno stagno è fermo ed è fetido, il mare invece è profumato proprio perché è sempre scosso dal vento. Ho deciso di scriverlo per unire la mia voce a quella, ecco, delle donne e degli omosessuali che chiedono giustizia per gli atti di violenza, abuso fisico, anche psicologico, perché ci sono vari tipi di abuso che vengono perpetrati su queste, ecco, su queste persone, sulle persone, ecco, per unire la mia voce a queste persone che soffrono e che chiedono giustizia. Quindi è un romanzo di denuncia sociale, di denuncia di modelli di comportamento. Tre anni fa io ho lessi un libro qui a Vallo, per caso lo trovai in libreria da pagina 5, e questo libro si intitola Il silenzio dell'innocenza, di Somalimam. Si tratta di un libro autobiografico che parla di una donna che compie un percorso di vita molto particolare, doloroso, ma con un finale, ecco, molto positivo, ovvero la tratta delle schiave, ecco, delle schiave sessuali. Lei è stata venduta all'età di 11 anni dal proprio nonna adottiva ad un commerciante cinese di schiave. Io rimasi talmente impressionato e folgorato che nel corso, ecco, della notte, dopo averlo letto di getto, nel corso di un'intera serata, sognai, ecco, una ragazza che piangeva, aveva degli occhi verdi, io mi ricordo soltanto questi occhi, e diceva, stava, e voleva, ecco, assalire anche me oltre ad un uomo anziano che le stava di fronte. Per concludere il mio discorso vorrei dirvi che il libro è questo, questa è l'immagine di copertina. La donna che, diciamo, è ritratta sul fronte è Maria, è acquistabile in ogni libreria, su ogni sito, in particolare vi consiglio libreriauniversitaria.it, ma anche amazon.it. Il prezzo è modico, nonostante, ecco, il libro sia corposo, ma è comunque scorrevole. Vi ringrazio di cuore di avermi ascoltato e buona lettura.